Amici di Gran Bazar, salve! La ditta è Giorgia Tirenzio, siamo di nuovo con voi. Siamo a Lammari, Viale Europa 108, provincia di Lucca, aperti dal lunedì mattina fino al sabato sera, quindi meno la domenica siamo sempre a vostra disposizione. Per parlarvi naturalmente di tutti i nostri articoli, pavimenti, rivestimenti e bagni completi. Passiamo ai pavimenti, quindi un'offerta in primo luogo che riguarda il cotto. Abbiamo il cotto classica rotato nella versione 30x30 o 15x30 che vi proponiamo a un prezzo eccezionale 12,50 euro al metro quadrato, IVA e trasporto compreso. Oltre a questo abbiamo aggiunto poi la versione già trattato, quindi stesso materiale, stessi formati, nella versione già trattato pronto per la posa al prezzo di 20 euro al metro quadrato, anche questo IVA e trasporto compreso. Questo per quanto riguarda i prodotti in cotto. Passiamo poi ai prodotti ceramici, abbiamo come offerta base un grass porcelanato smaltato nel formato 33x33 che vi proponiamo al prezzo di 13,50 euro al metro quadrato, anche qui IVA e trasporto compreso. Per passare poi al formato 45x45, questo è un grass porcelanato in massa serie jet che vi proponiamo al prezzo di 16 euro al metro quadrato, IVA e trasporto compreso. Poi abbiamo i prodotti più attuali, i famosi listoni tipo legno. Abbiamo due offerte molto interessanti su questi materiali. Abbiamo un formato 20x60, grass porcelanato colorato in massa e rettificato, serie legend che vi proponiamo al prezzo di 24 euro al metro quadrato, IVA e trasporto compreso. Poi abbiamo i listoni più grandi, listoni da 90, quindi formato 15x90 o 22,5x90. Anche questo naturalmente è un grass porcelanato rettificato, colorato in massa che vi proponiamo al prezzo di 30 euro al metro quadrato, IVA e trasporto compreso. Questo ve li sottolineo perché sono due aspetti molto importanti. E poi l'offerta che riguarda il bagno completo. Bagno completo, quindi tutto quello che serve per allestire la vostra stanza da bagno al prezzo di 1650 euro, tutto compreso. L'offerta comprende 26 metri quadrati di mattonelle a pavimento e rivestimento in tre diverse soluzioni di colore a scelta, una serie completa di sanitari con vasco, piatto, doccia, una serie completa di rubinetti a monocomando e per completare il tutto un mobile porta lavabo con lavabo incorporato e specchio in versione legno o laccato. Tutto questo pacchetto completo, noi ve lo proponiamo a questo prezzo eccezionale, 1650 euro, IVA e trasporto compreso. Vi ricordo che la dita è Giorgetti Lenzo, siamo a Lammeri, Viale Europa 108, aperti sempre meno una domenica a vostra disposizione.